di questi giorni, però lei è al centro di una questione, cioè insomma si può manifestare un pensiero in maniera anche molto duro, al limite della brutalità insomma, dal punto di vista delle parole, può un intellettuale, uno scrittore, un professore esprimere nei confronti del capo del governo un giudizio molto duro senza per questo essere trascinato in tribunale? Naturalmente se ne discute molto, lo dico subito perché la frase che tra poco farò ascoltare del professor Canfora, Paolo Mieli, è al centro di una disputa, c'è stato un appello del quotidiano francese Liberation, di alcuni intellettuali italiani affinché diciamo Giorgia Meloni ritiri la sua querela per diffamazione, ma al momento il processo ci sarà. E che cosa ha detto il professor Canfora di Giorgia Meloni? Ascoltiamolo. Anche la terribilissima, è sempre insultata, leader di quel partito di destra che si chiama fratelli d'Italia, come se in Francia ci fosse la marsigliese come partito politico, trattata di solito come una mentecatta, pericolosissima eccetera, siccome essendo neonazista nell'animo si è subito schierata con i neonazisti ucraini, è diventata una statista molto importante ed è tutta contenta naturalmente di questo ruolo. Professor Canfora vuole dire qualcosa, il processo ci sarà insomma, noi qui ci siamo occupati spesso dei processi alle parole, ce ne siamo occupati per Roberto Saviano che proprio qui aveva detto la parola bastardi riferita a Salvini e a Giorgia Meloni sulla questione dell'immigrazione come un'esclamazione, il processo si è concluso con una piccolissima ammenda per Roberto Saviano, ce ne siamo occupati in tempi passati per Henry De Luca che aveva usato delle parole insomma sul tema della protesta per il Notave eccetera, lei insomma ha detto neonazista alla Presidente del Consiglio, lei diciamo un po' giustamente diciamo si è anche risentita perché non è certamente piacevole sentirsi chiamare neonazista insomma, se lei mi desse del neonazista io mi arrabberai moltissimo e forse la querelerei pure io, però lì la situazione qual è? Non mi pare che nel 2022 Giorgia Meloni fosse Presidente del Consiglio, almeno non credo, ma questo è secondario, mi viene in mente una cosa, poi è una tematica che sarà trattata in altra sede, quando nell'Europarlamento ci fu Martin Schulz che in modo molto vibrante attaccò Berlusconi con parole dure, devo dire anche pesanti e critiche politiche naturalmente, Berlusconi rispose dicendo sto pensando di allestire un film nel quale le affiderò il ruolo di capò in un campo di concentramento nazista. Non credo che Schulz sia passato subito ad azioni di carattere giudiziario, ma ripeto è un aneddoto che riguarda due persone ormai lontane nel tempo da noi e io rimpiango lo stile di Aristofane con Cleone Ateniese, parole terribili, reazioni durissime. Ma ora non voglio metterla in difficoltà perché ci sarà un processo, ma non so se lei naturalmente può avvalersi della facoltà di non rispondere alle mie domande, ma io gliele faccio però, nel senso che lei è convinto tuttora di quella frase che ha pronunciato? Ma io penso con il grande pensatore greco Eraclito che nessuno può tuffarsi due volte nello stesso fiume. Il clinamen. C'è la professoressa Orbinati che... No, non c'è il clinamen, è un'altra cosa. Sento che la professoressa Orbinati sorride. Professoressa, mi dica...